Ciao raga, come state? Tutto bene? Sto per fare uno scherzo a Bubi Ovviamente è ora di pranzo E ho deciso di fargli una nuova ricetta Allora, come potete vedere qua C'è della pasta con il salmone e la panna Che ho fatto per me E qui c'è della pasta in bianco Però invece di metterci la panna Ci metterò il dentifricio Il dentifricio Sperando che assomigli Ha la pasta con Il salmone E la panna Cerchiamo di farla assomigliare in tutti i modi Ci mettiamo un po' di dentifricio così Et voilà Tanto dentifricio Abbondate un po' Ok, si vede? Vescoliamo E ci mettiamo anche un po' di tonno Per camuffare Senza esagerare Sennò poi diventa magari anche buona Dico magari Sotto ho il dentifricio Mi sa che mi viene da vomitare solo il pensiero C'è il terrore che arrivi da un momento all'altro Allora raga L'odore fa troppo schifo Oh mio Dio che schifo L'odore fa veramente cagare ragazzi Tra l'altro questo è uno scherzo che mi avete suggerito voi Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Condividete sto video su Facebook Ragazzi Condividetelo Il mio scherzo E niente Ci aggiungo magari una punta di prezzemolo Ovviamente sul gelato E voilà Assomiglia Sembra quasi più bella questa Vabbè Diciamo che è pronto È pronto Bubi Bubi è pronto Bubi pronto Dai che si raffredda Sì ma sta cazzo di lei mia caglia Non si sta cercando niente qua Eh lo so Un appetito Un appetito Bubi E' buona la pasta asciutta Mi raccontando il dentifrigio Ahahahahaha Non mi rimana il piatto Non ti azzardare Ahahahah Ahahahah Pupi Ahahahah 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 solo per te solo per te perché io invece ho della fantastica pasta con il salmone, invece per te pasta con tonno e dentifricio che tenero il mio cucciolino quindi Bubi dieta anche oggi? ahahahahahah ahahahahah ahahahah mi sto venendo da vomitare anche a me, raga ve lo giuro, mi sta venendo da vomitare anche a me cosa volevo dire? ve l'ho già detto però ve lo ridico iscrivetevi iscrivetevi al mio canale perché ormai è diventato mio ovviamente condividete questo canale sta diventando una tortura, basta Condividete il mio fantastico scherzo, dovete condividerlo, cioè dovete sforgere la parola, ok, perché è un bellissimo scherzo che potete fare anche voi, tranquillamente a casa vostra, ai vostri fidanzati amorevoli, che meritano tanto amore, tanto, tanto, tanto. Tanto così. Così. Non guardo Bubi, non mi fotti. Solo i babbi ci cascano in sto gioco. Ma tu ci caschi sempre, infatti. No. Ciao raga! E buon appetito!